I carabinieri della compagnia di Fanno hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa da giudice per le indagini preliminari nei confronti di due quarantenni del posto, un uomo e una donna, sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in debito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estorsione e calugna. Le indagini dei militari hanno permesso di disarticolare una organizzata e sistematica attività di spaccio studiata dagli indagati tra il mese di settembre e novembre 2020 a favore di numerosi acquirenti di Fanno, Pesero e Fossombrone. Tutto è iniziato due anni fa quando le forze dell'ordine avevano controllato un giovane a Sassonia di Fanno trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina. Il ragazzo, che nell'occasione era finito in manette, era stato notato avvicinarsi in dici all'auto della coppia prima di essere trovato con lo stupefacente nascosto all'interno dello zaino che portava a tracolla, 70 euro il prezzo praticato dai venditori per ogni grammo di stupefacente e circa 300 i grammi di cocaina ceduti ogni mese. Utilizzavano un bed and breakfast come deposito ed era l'uomo che reperiva la droga in particolare a Riccione. Durante uno dei suoi viaggi era stato sottoposto ad un controllo e arrestato perché trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina. Le dichiarazioni fornite dal quarantenne in sede di Convalida gli sono valse anche la contestazione del reato di calugna, avendo cercato di indirizzare su altre persone le proprie responsabilità. A suo carico sono state accertate anche delle condotte estorsive come percosse e minacce per convincere due clienti a distinguere debiti maturati e non ancora onorati. Della donna invece nessuna traccia, infatti risultava assente da tempo dal suo domicilio affano. Poi però i carabinieri sono riusciti a rintracciarli in Spagna e il 17 agosto scorso è stata arrestata all'aeroporto di Bologna. Sconterà la sua pena ai domiciliari.